salve ragazzi oggi vi faccio vedere come verificare se la propria gmail è finita nel dark web gratuitamente e grazie a google naturalmente apriamo google one oppure andiamo sul relativo sito e tra le varie opportunità che ci fornisce google one c'è proprio quella la del report del dark web una scansione disponibile con prova ora precisiamo che per gli account google che non hanno un abbonamento google one la funzione e spot quindi si fa la ricerca nel momento in cui la si fa e si hanno i risultati mentre per gli account che hanno un abbonamento a dello spazio aggiuntivo con google one questa scansione sostanzialmente continua quindi anche se non la lanciamo noi nel caso verrissero scoperti nuovi dati relativi a noi sul web google ci avviserebbe direttamente e oltre a monitorare il nostro indirizzo gmail quindi la presenza del nostro indirizzo gmail sul dark web che è quello che possiamo fare noi con l'account gratuito verifica anche altre informazioni per esempio la nostra email di recupero che potrebbe essere non gmail o altri dati che sono comunque già presenti nel nostro account google io non ho un abbonamento one al momento e quindi vi farò vedere la funzionalità gratuita che ripeto possono utilizzare tutti quanti basta avere appunto un account google una gmail premiamo su prova ora il sistema ci manda al sito web di google one quindi potete andare anche direttamente lì se non avete l'applicazione installata ci spiega brevemente che cosa farà quindi una scansione una tantum del mio indirizzo solo adesso che la sto lanciando scopri come funziona è un link che vi fa vedere meglio insomma vi da qualche dettaglio in più sul funzionamento di questa scansione e sul dark web ci sono naturalmente ci saranno dei consigli che nel nostro caso avendo solo la verifica della gmail quasi sicuramente si fermeranno a attiva la due step sul tuo account google mentre se abbiamo la scansione su un abbonamento a pagamento ci saranno anche consigli diversi possiamo impostare un email di promemoria che ci ricordi ogni tanto di fare questa scansione e naturalmente possiamo far partire la scansione che adesso facciamo premo su esegui scansione ci mette pochissimi secondi ed ecco qua riepilogo dei due risultati sono state trovate cinque violazioni dei dati associate al tuo indirizzo email nel dark web visualizza i dettagli agisci per proteggerti premendo su visualizza tutti i risultati vediamo ecco qua i cinque i cinque casi in cui la mia gmail è stata trovata nel dark web proviamo insomma a capire cosa ci dice google nel primo nel primo report vediamo che è stato legato la perdita di dati è legata a twitter e ci dice anche la data possiamo entrare dentro intanto per vedere ulteriori dettagli ci dice che il 6 gennaio sono state trovate le mie informazioni sul dark web in particolare l'email e il nome utente di twitter come vi dicevo poi in fondo viene consigliato di attivare la due step sull'account google comunque come possiamo vedere poi ci sono delle voci 2021 google non ci dice da quale sito da quale servizio sono usciti questi dati perché è in corso un'indagine oppure insomma pubblicare questi dati potrebbe causare problemi più grossi di quelli che abbiamo al momento ci dà comunque l'informazione e ci dice in questo caso che è stato trovato il mio indirizzo email e addirittura anche la password che naturalmente mi mostra solo con i primi due caratteri per questioni di privacy perché sono comunque delle informazioni trovate ed elaborate insomma a livello software e quindi potrebbero essere non precisissime questa password potrebbe non essere la mia nel mio caso vedendo le prime due cifre so che potrebbe essere una delle mie password naturalmente in questo caso non sappiamo neanche il sito quale quindi anche se avessimo un account a cui cambiare una password non abbiamo idea di quale sia poi c'è qualche altra cosa naturalmente ogni ogni come vedete però già dalla lista già dalla lista dei risultati vediamo cosa è stato trovato la più pericolosa e quando viene trovata email e password perché teoricamente significa che hanno tutti i dati per accedere a un account che ripeto in questo caso per esempio in nessun caso hanno trovato la password del mio account google ma molto probabilmente era la password di un qualche altro account dove io accedevo con la mia gmail ok quindi niente questo è il report sostanzialmente sicuramente va attivata la verifica in due step sia sull'account google e sia su tutti i servizi esterni a questo punto che utilizziamo e che forniscono questa possibilità in modo da restare più tranquilli insomma e anche nel caso un malintenzionato avesse la nostra email e la nostra password dovrebbe comunque avere il secondo step per entrare nell'account quindi mi raccomando ragazzi ogni tanto fate questa scansione perché è molto utile e ci può dare delle informazioni per soprattutto imparare a muoverci meglio online e a tutelare i nostri dati prima che vengano rubati da qualcuno va bene un saluto a tutti come sempre se vi piacciono i miei video mettete un like e iscrivetevi al canale ciao grazie a tutti